Buongiorno a chi con c'è E al mio amore buongiorno per dirle che lei Che per prima al mattino vede il gioco per lei E' un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te Venerdì 26 luglio, ore 7 e 20 Siamo come ogni mattina in diretta con l'appuntamento di Buongiorno Rossini Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione locale del mattino di Rossini TV Spazio che come sempre vi trasmettiamo in diretta Spazio dedicato alla rassegna stampa dei quotidiani locali In questo venerdì 26 luglio siamo pronti come sempre a darvi conto di quanto proposto dai quotidiani locali Il resto del Carlino, Cronaca di Pesaro e Corriere Adriatico Questo momento che vi mostremo tra poco Come sempre però iniziamo la nostra programmazione dando uno sguardo su uno dei nostri territori In questo ultimo weekend di luglio Lo sguardo è quello su uno dei borghi più belli della provincia di Pesaro Rubino Quello di Frontino nelle aree interne in prossimità del parco Sasso Simone Simoncello Vedete Frontino che si sta svegliando con questo sole chiaro e nitido E l'ombra del borgo che lo accompagna È un tempo sereno che accomunerà un po' tutta la regione Marche Questo è lo sguardo di tre bimetio sul territorio di Pesaro Vedete tempo soleggiato tutto il giorno Con temperature che si alzeranno nel corso della mattinata Però non avranno i picchi delle settimane precedenti Si andrà tra i 30 gradi e i 31 Tra le 11 di mattina e le 19 di questa sera Poi temperature che torneranno a scendere nella notte Situazione analoga nel resto delle Marche Tempo sereno e soleggiato in tutto il territorio E per tutta la giornata di questo venerdì Anche in questo caso Temperature sopra i 30 gradi Ma con picchi che non andranno oltre i 33 gradi E dunque Sguardo sul territorio Sguardo sul meteo Ed ora sguardo sulle notizie Cominciamo dalla prima pagina del Corriere Adriatico Acquedotto che si rompe a Pantano Ve ne abbiamo parlato anche ieri nel nostro Tg In questo momento di crisi idrica C'è stata una rottura riparata Nel giro di poche ore Dai tecnici di Marche Multiservizi E intanto sulla crisi idrica La regione impone di dimezzare i prelievi E poi un titolo che riguarda la politica regionale Al PD si fregano le sedie Tra parentesi tra loro Ennesimo atto della Fai da Dem La Bonprezzi si alza per un'intervista tv E Mangialardi le ruba il posto La Casini interviene come a scuola Fate un po' per uno E la segretaria dei Marziani se ne va in lacrime Questo un episodio raccontato di quanto avvenuto in consiglio regionale E poi notizia con cui abbiamo aperto Tg di ieri La morte di Fulvio Tonti Della IFI che muore nel giorno del suo cinquantesimo compleanno Un'altra tragedia per la famiglia Tonti Leader della IFI Tre mesi fa era morto l'ex presidente Gianfranco Nonché papà di Fulvio Tonti Al 118 medici privati iperpagati Il caso sollevato in regione E poi il nuovo CDA di Aset Lo guiderà Giacomo Mattioli E torna Cucuzza come vicepresidente Altro caso di respiro regionale Il caso Svemi Tanti ruoli di Santori Nel crocevia degli interessi Questa analisi del Corriere Adriatico E poi il caso del Club Nautico Di cui abbiamo parlato anche ieri Il no dipende dal Comune Replica l'autorità di sistema portuale Sul caso sollevato da Biancani E poi oggi venerdì 26 luglio Iniziano le Olimpiadi di Parigi Le Marche avranno l'onore di avere il portabandiere Ovvero Gianmarco Gimbo Tamberi Questa bella foto di Tamberi Che vola in aereo verso Parigi Fianco a fianco al presidente della Repubblica Mattarella E questa dunque la prima pagina del Corriere Adriatico In questo venerdì 26 di luglio Carlino con la prima pagina dedicata a Vedete nel taglio alto anche qua La morte dell'imprenditore Fulvio Tonti Nel giorno dei suoi 50 anni Ad aprile era deceduto il padre Soldi facili Il PD Si serve chiarezza Il capogruppo Marco Perugini Sul caso sollevato dallo stesso Carlino No però a una commissione di inchiesta Dunque interviene Perugini Ex presidente del Consiglio Comunale Sulla questione Perugini che ora è il capogruppo Del PD in Consiglio Comunale L'acqua non va sprecata Ve ne abbiamo parlato anche ieri Il nostro Tg Ora ci sarà un spot Uno spot Che sarà Enfatizzato all'altoparlante Tra i vari quartieri della città Un messaggio con la voce dei bambini Che invitano al consumo responsabile dell'acqua E intanto sono ridotti del 50% I prelievi dai fiumi della provincia Si è completato il quadro Di tutti i diplomati Alla maturità della provincia Di Pesaro e Urbino E domenica è in programma La cerimonia Di tutti coloro che hanno avuto 100 e 100 elode sul diploma Si ritroveranno tutti nel nuovo teatro Giovanni Santi Di Bottega di Vallefoglia A partire dalle 17 e 30 E poi gli spostamenti Trasferimenti dall'ospedale di Muraglia Per la realizzazione del nuovo ospedale Salute mentale I familiari dei pazienti Non vogliono un trasferimento Soprattutto non lo vogliono Lontano da Pesaro E poi Rocca Costanza ci siamo Come abbiamo raccontato nel nostro Tg Ad agosto si riaprirà alle visite guidate E poi polemica a Fano Il vice sindaco parcheggia in ZTL Non aveva il permesso E ancora il calcio La Vis cede a Venezia Ma la squadra piace Prima amichevole di lusso Con turno avversario di Serie A Vince 4-1 La squadra lagunare In quel di Mestre E poi VL in Brò si presenta Faremo grandi cose Dunque questi i titoli In queste due prime pagine Di Corriere Adriatico e Carlino Per quello che riguarda Questo venerdì 26 luglio Proseguiamo nella consultazione all'interno Cominciando dal Carlino E dall'inchiesta dello stesso quotidiano Sui soldi facili Quelli che mettono sotto la lente di ingrandimento Le due associazioni Opera Maestra e Stella Polare E' intervenuto Dopo tanti interventi Dell'opposizione Anche Marco Perugini Che non è più il presidente Del Consiglio Comunale Ma il capogruppo Del Partito Democratico In Consiglio Dice In tutta onestà E' necessario fare chiarezza Ma non servono sensazionalismi La commissione c'è già Dice Perugini L'anzi è sufficiente Che convochi La commissione di controllo E garanzia Non serve quella di inchiesta E poi il centro-destra Parla di un sistema ben oliato Questo che ha portato A questo sistema Che poi è finito sotto la lente di ingrandimento Del Carlino E che viene amplificata Anche in Parlamento Con l'attenzione portata Alla Camera dei Deputati Dall'Onorevole Antonio Baldelli Di Fratelli d'Italia Che ha fatto presente Appunto in Parlamento Questa situazione Facendo luce Soprattutto su Quelle che ha dita Come carenze Del sindaco Ex sindaco Matteo Ricci In primis Voltiamo pagina E parliamo Di quello che avevamo mostrato Anche ieri Nel nostro Tg Non sprecate l'acqua La lezione arriva dai bambini Giro nei quartieri Con l'altoparlante Lucia e Mattia Protagonisti del messaggio Che sarà diffuso In tutta la città Con la Panda della protezione civile Qua vedete anche Il sindaco Biancani A bordo Della Panda Durante la presentazione Di ieri mattina Di questo spot particolare Oggi è previsto anche Un summit in prefettura Per trovare Soluzioni in un momento Di forte carenza idrica Soprattutto Sotto la lente Ci sono Le pulizie Dei bacini idrici Del territorio Come quello Del furlo Che possono Rimpinguare Adeguatamente Le acque Di superficie Nelle quali Prelevare Il dirigente Del settore Genio civile Delle Marche Ha emesso ieri Il decreto Con cui viene disposta La riduzione Del 50% Dei prelievi Dai fiumi Un provvedimento Dice l'assessore Aguzzi Necessario In considerazione Delle problematiche Emerse Di approvvigionamento E poi Come detto La beffa In questa situazione Si rompe Una condotta Pantano Rubinetti A secco per ore Acqua sparsa Per strada L'abbiamo parlato Anche ieri Nel nostro Tg Attorno alle 14 Tutto risolto Ma c'è stato Questo problema Cominciato Dalle prime ore Del mattino Con i tecnici Di Marche Multiservizi Intervenuti In via Pantano In prossimità Dell'intersezione Con via Madonna Di Loreto È stato necessario Rompere la strada Per arrivare Alla radice Del problema Quello che è noto Di condotte In gran parte Della città Che sono vecchie Fin dagli anni 70 Soprattutto Quelle alte temperature Tendono a rompersi È stato questo Un altro caso Che al quale È stato Posto Rimedio Salute mentale La battaglia Salute mentale La battaglia I familiari Dei pazienti Fanno muro Non trasferite A Vallefoglia La prospettiva Dello spostamento Da muraglia Preoccupa I parenti Costituendo Un comitato Chiediamo Di essere coinvolti Nelle decisioni La lettera Da Quaroli Biancani E Carelli Direttore Dell'azienda Sanitaria Territoriale Intanto Cominciamo a dare Buongiorno Anche ai tanti Che ci salutano Attraverso La nostra pagina Facebook Ad esempio Ci soffermiamo Su questo intervento Di Francesco Sanchini Che ci saluta Dice L'acqua non va sprecata Siamo tutti Siamo tutti D'accordo Ma nemmeno Gli acquedotti Vanno sprecati Sono anni Che sistematicamente Si verificano Rotture E perdite Servono Interventi Risolutivi Perché poi Alla fine Le bollette Arrivano Sempre E dunque Abbiamo anticipato Un po' Quest'interazione Con la nostra pagina Facebook Proprio per questa Notizia Che vi abbiamo appena Dedicato Sul tema Del risparmio Idrico E poi Ne abbiamo parlato Ieri nel nostro Tg ad agosto Riapre Rocca Costanza Alle visite Guidate C'è l'accordo Tra Comune De Magno E tutti gli enti Coinvolti Saranno Riaperti Luoghi Come I bastioni La cappella E dunque Altre stanze Interne Con la vista Sulle mare Per Biancani Con i mosaici Del Duomo Sarà un altro Salto di qualità Turistico Biancani Che anche I nostri microfoni Aveva sollevato Il caso Invece Del cortocircuito Sulle autorizzazioni Al porto In particolare Sull'aspetto Del club nautico Che è chiuso Per Lavori di ampliamento Rilasciati Con lo che della Capitaneria E poi negati Dall'autorità portuale Autorità portuale Che ha replicato In questa Nota Che dice Che come La competenza In questo caso Sia stata del Comune L'autorità portuale Ha semplicemente Vigilato Su un Sistema Che presentava Delle anomalie Ma si è reso Disponibile A un confronto Per cercare Una soluzione Ed ora La morte Shock di Fulvio Tonti Stroncato Nel giorno Dei 50 anni Lo aspettavano Per la festa Il manager Della IFI Senza vita in casa Ad aprile Ricorderete Era deceduto Il padre Gianfranco Capo Sustipite Della famiglia La guida Della IFI Aveva Ha tuttora Quest'azienda Nel campo Della refrigerazione Una continuità Familiare Il figlio Fulvio Era capo Del CdA Insieme Alla figlia Francesca E questa Morte tragica Per infarto Morto Nella sua casa Di cattolica Dove Appunto La famiglia Vive la famiglia Proprietaria Dell'azienda Con Sede Tra Tavuglia E Pesaro Andiamo avanti E ci occupiamo Della Di questa Segnalazione Di furti Tre furti Sventati Sono avvenuti Nelle colline In particolare Tra Candelara Novilara E Trebbia Antico Vari episodi In pochi giorni Episodi Di velte inferiate Di portoni forzati E di infissi Che sono stati Appunto Violati I banditi Però in tutti e tre i casi Sono stati messi in fuga Da varie situazioni In un caso dall'allarme E in un altro caso Dagli arrivi Dei proprietari Vi ricordiamo Che domani C'è anche Un'altra plateale Manifestazione Di protesta Sulle Pochi posti Negli asili Nido A Pesaro Il comitato Dei genitori Lavoratori In piazza Del popolo Alle 10 Per questo Momento Che vuole portare Una svolta A questo Che è un problema In cui Il comune In qualche modo Riesce a mettere Delle toppe Ogni anno Che però Non riescono A porre fine A questa problematica Per una domanda Sempre più Impellente Su questa Su questa Necessità Delle famiglie Della città Ieri Ci si aspettava Forse Una Un no Definitivo Alla discarica Di ricerci Con l'imposizione Del vincolo Paesaggistico E' arrivata Una fumata grigia La commissione regionale Ha giudicato Il sito Meritevole Di tutela Paesaggistica Non arriva Il vincolo Che di fatto Avrebbe messo La parola fine Ma si dice Soddisfatto L'assessore All'ambiente Aguzio Visto unità Di intenti Per porre fine Alla questione Tutto rimandato Probabilmente Alla prossima Conferenza Dei servizi In programma Il 6 di agosto Come ogni venerdì Il resto del Carlino Dedica una pagina intera Agli appuntamenti Di Pesaro Capitale Della cultura Si parla Di una inaugurazione Di una mostra Di scultura In ceramica Al museo Della marineria Washington Patrignani Quella Che è Diciamo La villa Collocata All'interno Del parco Molaroni Nella zona Mare Porto Di Pesaro Si chiama Verde dalghe Dalla favola Di calvino I gioielli Dei Benny Bosetto Questa Artista Che vedete In fotografia Mostre di scultura In ceramica Create dall'artista In collaborazione Con il laboratorio Molaroni E poi Parte la settimana Da capitale Della cultura Di mercatello Sul metauro Dal prossimo lunedì E torna L'appuntamento Con cosa c'è Dopp La rassegna Dedicata Alle eccellenze Gastronomiche E poi Si sottolinea L'arrivo A Pesaro Del grande Compositore Luigi Sakamoto Un concerto Unico In realtà Mista Per rivivere L'ultima performance Eseguita dal musicista L'appuntamento È dal 30 agosto Al 12 settembre All'auditorium Scavolini Passiamo A Fano Anche nel nostro TG Vi abbiamo annunciato Il cambio di presidenza All'Aset Sarà Giacomo Mattioli Il nuovo Presidente Che promette Scelte coraggiose Ieri si è insediato Il CDA Il nuovo presidente Frena sulle alleanze Prima capire le strategie di Ato Formate le commissioni Consigliari Per quanto riguarda Fano C'è anche la nomina Di Maria Antonia Cucuzza Come vicepresidente E i consiglieri Francesca Fiorelli E Enzo Di Tommaso Dal La novità Su Aset Alla novità Alla guardia di finanza Di Fano Il tenente Achilli È il nuovo Comandante Delle fiamme Gialle Fanesi Prende il posto Del comandante Rizzo Il comandante Francesco Rizzo Che dopo Quattro anni A Fano Passa Alla guardia di finanza Di Vicenza Viene invece Dalla guardia di finanza Di Lodi Il 28enne Nuovo Comandante Alessandro Achilli Dalla guardia di finanza Alla polizia C'è stato un altro blitz All'ex Convitto Vittorio Colonna Altra occupazione Abusiva Denunciati Due giovani Magrebini La polizia Li ha trovati all'alba Mentre dormivano Nell'edificio Uno era Fuggito Da una comunità Si tratta Tra l'altro Di due giovanissimi Uno di 18 E uno di 16 E poi questo caso Sollevato a Fano Auto del Vice Sindaco Diventa un caso In quanto parcheggiata In ZTL Senza permesso Si tratta Dell'auto Della Vice Sindaco Loretta Manocchi Panarone Del Movimento 5 Stelle Solleva Questa polemica Nell'eggerezza Dettata dall'illusione Che chi è in amministrazione Possa fare come vuole La replica di Manocchi Sosta breve Per attività Connesse al mandato Si faccia Politica Su contenuti Veri Andiamo a Colli al Metauro Dove c'è L'attacco Dell'ex Vice Sindaco Di Saltara Vladimiro Perlini Giunta Sente Manca Incisività Perlini Sfiducia La maggioranza Non vedo L'impronta Politica E si è persa La serenità Interna Dove abbiamo Investito i soldi Dello Stato Circa Un milione E mezzo All'anno La domanda Che si pone Perlini Sempre in tema Di politica L'ex sindaco Di Mondaio Federico Talè Esponente Del territorio Di Taglia Viva Lascia Il partito Dice Sono contrario All'apertura Di Matteo Renzi A Movimento 5 Stelle Verdi E Sinistra Ancora politica Ma su Urbino Adesso Lavoriamo Alla provincia Autonoma Giorgio Londè Presidente Dell'Associazione Urbino Capoluogo Dice Coinvolgeremo il Consiglio Comunale Serve l'impegno Di tutti Dunque C'è questa intenzione Di provare A creare Questa provincia Autonoma Di Urbino Anche Come già Più volte Annunciato Anche in campagna Centenario Delle stimmate A Laverna E poi Andiamo A Cagli Il destino Del convento Di San Nicolò Che fa discutere Opposizione All'attacco Del sindaco Alessandri Andiamo a guardare Anche alcuni Appuntamenti Culturali E di spettacoli Come quello Di Fano Jet by the Sea I risorti Bad Plus Alla Rocca Il gruppo Vede ora La presenza Di Orrin Evans Al posto Di Ethan Iverson E adesso Il tono È post Rock Sotto il cielo Stellato Del San Francesco Alessandro San Caterina Con la chitarra Battente Per questa Grande manifestazione Di Fano Jet by the Sea Da Fano A Gradara Nuovo appuntamento Al Marvel Museo d'Arte Rubini Vesin C'è Achille Villi L'artista Che ancora stupisce La graphic novel Eccola prima Si inaugura una mostra Con due interventi Di Luca Baroni Ed Elio Giuliani Dunque Appuntamento Da domani Alle 21.15 Al Marv Di Gradara E poi Appuntamento Che sarà seguito Anche dalle telecamere Di Rossini TV Quello Della Settantesima Sagra Delle pesche Di Montelabate Tra profumo Tra sapore Profumo E divertimento Torna Il popolare Appuntamento In programma Anche i concerti E la consueta Corsa ciclistica Legata Alla manifestazione Torneremo Torneremo Sul Carlino Per le notizie Di sport Ora Andiamo Al corriere Adriatico C'è questo Caso Messo sotto la lente Dal corriere Su Il partito Democratico Alcune dinamiche In consiglio Regionali I marziani Come a scuola Litigano Per le sedie Bonprezzi Via in lacrime Nuovo atto Della FAI Da PD La segretaria Si alza Per un'intervista E Mangialardi Le prende il posto Interviene La capogruppo Casini Fate un po' Per uno E poi Chantal Bonprezzi Abbandona L'aula Piangendo Sembra Eserci Dunque Il secondo Queste colonne Dell'articolo Di Martina Marinangeli Una cicatrice Insanabile Tra maggioranza E minoranza Dem Andiamo Le notizie Specifiche Di Pesaro Doppia pagina Consueta Del Corriere Adriatico Dedicato A un tema Specifico E si parla Dell'acqua E del risparmio Idrico Anche qua Le foto Della nuova Rottura Dell'acquedotto Mentre Come detto La regione Annuncia Prelievi Dimezzati Qua vedete Le immagini Dell'acqua Che ha Dell'allagamento In via Pantano Poi riparato Dai tecnici Di Marche Multiservizi Poi Come detto Contro Gli sprechi La protezione civile Girerà nei quartieri Con questo spot Con la voce Dei bambini Una campagna Di sensibilizzazione Sul rispetto Dell'ordinanza Per quanto riguarda Invece I prelievi D'acqua Sul furlo La diga La diga in deficit Stiamo peggiorando Questo il report Sulle condizioni Degli invasi Che evidenzia Criticità diffuse Come raccontato Dato per dato Di ogni invaso Dall'articolo Di Luigi Benelli Il caso Dei fondi Alle associazioni Opera maestra Stella Polare Anche il Corriere Adriatico Sottolinea I contributi Alle associazioni Sottolineati Dall'onorevole Antonio Baldelli In Parlamento In attacco Soprattutto A Matteo Ricci Matteo Ricci Che oggi tornerà A Pesaro Per inaugurare Alle 18 Nel cortile Della provincia Un suo ufficio Istituzionale Che sarà un luogo Di confronto Dedicato All'Europa E alle opportunità Per il territorio Ve ne parleremo Anche nei nostri Prossimi spazi Informativi Tornando al caso Della Di opera maestra Stella Polare Anche Il Corriere Adriatico Riporta L'intervento Di Perugini Che dice L'anzi Deve convocare La commissione Di controllo E non servono Strumentalizzazioni E sensazionalismi Come la richiesta Della commissione D'inchiesta Sanità Nel caos Epotesi In crisi Vergognoso Favorire I medici Esterni Saltamartini Dice Vogliamo dire Basta Ai gettonisti Scusate Il Partito Democratico Solleva Anche il caso In regione E poi Andiamo La notizia Della morte Di Fulvio Tonti Anche qua Lo aspettavano Per festeggiare I 50 anni L'imprenditore Stroncato Da un malore In casa Tre mesi fa Era morto Il padre Presidente Del gruppo Davvero Un lutto Che aggiunge Dolore Ad alto dolore Per la famiglia Tonti Leader Della IFI Ieri Nel nostro Tg Vi abbiamo mostrato Quella che è stata Una giornata Di dimostrazioni Nella spiaggia Di Sottomonte Ieri 25 luglio Ricorreva La giornata Di prevenzione All'annegamento Pesaro Si è messo in mostra Con tutti i suoi dispositivi Di sicurezza E prevenzione Dei salvataggi In acqua Con le motovedette Di capitanerie Vigili del fuoco A quelli Anche con i cani Addestrati Fino Alle manifestazioni Di primo soccorso Alle dimostrazioni Di primo soccorso Portate dagli operatori Della Croce Rossa Date ai vostri Ragazzi Scope Pennelli Saranno loro A insegnarvi qualcosa Voce Del presidente Del centro Servizio Volontariato Thomas Nobili Che Mette Così Il cappello Alla conclusione Del progetto Ci sto a fare fatica Un progetto Di volontariato Utile Alla comunità Per tanti Servizi Di piccole Manutenzioni Che coinvolgono I giovanissimi Che oggi arriva A conclusione Faremo un punto Di quanto avvenuto In questo progetto Nel telegiornale Di questa sera Poi anche Il Corriere Adriatico Ricorda La riapertura Alle visite guidate Di Rocca Costanza Dai primi giorni Di agosto Così come Si sottolinea La partenza Della sagra Delle pesche Di Monte Labate E anche Il concerto Alle 21.30 Della rassegna Note Oliveriane Organizzato Da Ente Olivieri E Pesaro Segreta Alle 21.30 Nell'allosfera Di Piazza del Popolo Le armonie Di Bach Beethoven Poi Spaziando Da Rossini A Cic Corea E nel Ensemble Guidato Dal batterista Di fama Di fama Mondiale Simone Perini Si parlava Di asili Poco fa Ricordando La manifestazione Prevista Domani In Piazza Del Popolo E C'è poi Sono servizi Di asilo Forniti Dalle industrie È il caso Di piccola Fucina Il servizio Di asilo Aziendale Attivato Dall'IMAB Di Fermignano Babysitting E doposcuola Così Aiutiamo I dipendenti E poi L'area Di riceci Merita Di essere Adeguatamente Salvaguardata Le indicazioni Immersi dall'incontro In regione Un altro Piccolo Passo Per provare A chiudere Pagina Su questa Vicenda Di realizzazione Della discarica In questa Area Petrianese E poi Ieri In regione Come vi aveva mostrato Il nostro Tg È stata una giornata Di encomi Del Consiglio regionale A due realtà Sportive Lodevoli Come quella Dei vichinghi Baskin Di Fermignano E come quella Del pentatleta Pesarese Nonché ex Consigliere Comunale Emanuele Gambini Che ha ottenuto Tanti successi Di prestigio A livello Internazionale Andiamo A Fano Sventato Furto In zelleria Allarme Tra i commercianti L'episodio In un negozio Di corso Matteotti Una coppia E' segnalata I carabinieri Anche grazie Al sangue freddo Di una commessa Che ha saputo Sventare Appunto All'interno Della gioielleria Questo furto E allertando Le forze Dell'ordine Facendo Desistere I ladri In questione Arriva Come detto Il nuovo comandante Della guardia di finanza A Fano Cambio Passaggio di consegne Da Francesco Rizzo Al nuovo comandante Alessandro Achilli E poi Anche Fano Ha celebrato La giornata Di prevenzione A rischi Dell'annegamento Con le prove Di salvamento Con i cani Nella spiaggia Di Sassonia Stesse notizie Di fatto Riportate Dal Carlino Su Fano Anche qua Ha costituito Il nuovo CDA Di Aset Lo guida Mattioli Torna Cucuzza Così come Viene Fatto presente Il caso Della vice Sindaca Che parcheggia Nello stallo Riservato E in ZTL Con attacco Politico Da parte Di panaroni Del movimento 5 stelle E poi Sempre su Fano Adamo La telemedicina Porta Le cure Il conforto A domicilio Le attività Dei volontari Potenziate Dal monitoraggio Da remoto Dei pazienti E poi C'è stato Anche Un incidente Con un centauro Fuori pericolo Si scontra Con un furgone Soccorso 15enne In bici Il centauro fuori pericolo Riguarda Anche un altro schiatto Tra moto E auto Tutti incidenti Avvenuti A Fano E poi Viabilità A Pergola La Val Cesano Torna Centrale Investiti 15 milioni Sulla statale Sopra luogo Dell'assessore Baldelli Per la fine Dei lavori Di rigenerazione Vediamo Come di consueto Il buongiorno Ai tanti Che ci salutano Attraverso La nostra pagina Facebook Abbiamo commentato Poco fa Con il nostro Telespettatore Francesco La notizia Riguardante Gli sprechi D'acqua E le rotture Dell'acquedotto Diamo il buongiorno A tanti Che ci salutano Alcuni di voi Come Michela Sottolinano Davvero La morte Ad esempio Di Fulvio Tonti Così come La carenza Di medici Diversi Commenti A queste Notizie Siamo sempre Contenti Di questa interazione Con voi Telespettatori Diamo a tutti voi Il buongiorno Ringraziandovi Per questo Riscontro Attraverso la nostra Pagina Facebook Vi auguriamo Un buon Weekend Weekend Con le notizie Di sport Che naturalmente Sono Weekende Senza Partite In questa Fine Di luglio Ma naturalmente Ci sono Notizie Interessanti Per quello Che riguarda La preparazione Delle varie Squadre Del territorio A cominciare Dalla Vispesaro Che ieri Ha avuto Un'amichevole La prima Amichevole Contro Un avversario Di lusso Il Venezia Neopromosso In Serie A Si è giocato A Mestre La vistina Testa Al Venezia Cannavò Su rigore Segna Una La rete La prima rete Di fatto Del precampionato Biancorosso I gol I gol Sono stati segnati Per il Venezia Da Pierini Ghittichier Sverco E poi Ampalo Di Cannavò La rete Due formazioni Completamente Diverse Una per tempo Proposta Da mister Stellone Ora si torna Nel ritiro Di cingoli Poi Nuova spedizione In Italia Settentrionale Il 29 luglio Si giocherà In Lombardia Per un'altra sfida Con un avversario Di Serie A Quale è Il Monza Il Fano L'alma di guida Sotto esame Eccellenza Ancora in bilico L'istanza di iscrizione Non ha convinto Il Comitato regionale Il futuro di Granata Nelle mani Della FGC nazionale Intanto È stato convocato Per oggi Alle 16 Il CDA Del consorzio Fano Sport Del presidente Petrucci Andiamo Alla VL Con una intervista Al nuovo acquisto Matteo Inbro Che dice Qui si respira Pallacanestro Inbrolla Nella scorsa stagione Ha trionfatino Con Trapani Spiega i motivi Del suo arrivo La VL Proverà a tornare Subito Nella massima serie E io vorrei dare Un contributo Importante E poi Ufficializzato Il calendario Della Megavox Vallefoglia Il calendario Della Sere A1 Femminile Di Volley Eccolo qua Con la squadra Di Pistola Che giocherà Le prime due partite In trasferta Ovvero il 6 ottobre A Firenze E il 13 ottobre A Perugia Prima partita In casa Casa Che sarà ancora quella Del Palamegabox Di Pesaro Arriverà il 20 ottobre In casa Contro Busto Arsizio 26 giornate Di Regolar Siso Che si concluderà Il primo marzo Il primo marzo In cui Vallefoglia Sfiderà Cunio E poi La consueta Formula Con playoff E gli intermezzi Di Coppa Italia Con tutte le date Riepilogate In questa pagina Del Corriere Adriatico E poi Questa bella Immagine Che ci ricorda La partenza Delle Olimpiadi Oggi Con la cerimonia D'apertura A Parigi Gimbo Volo presidenziale Adesso a te Il Tricolore Ricordiamo Che il marchigiano Gianmarco Tamberi Sarà al Porta Bandiera Azzurra E ha volato Verso Parigi Sullo stesso aereo Di Mattarella Oggi Alle 19.30 La cerimonia Di apertura Dei giochi In riva Alla Senna Andiamo Anche Allo sport Del resto del Carlino Con il QS Che naturalmente Dedica ampio spazio Alla Apertura Delle Olimpiadi Con questa bella Immagine Della Torre Eiffel Aghindata Con i cinque Cerchi Olimpici E poi le notizie Legate all'Olimpiade Dal Porta Bandiera Tamberi E Arianna Errigo Che sarà anche lei Porta Bandiera Nell'occasione Insieme a Mattarella Al forfè Eccellente Di Yannick Sinner Che deve Rinunciare Ai giochi Olimpici Il numero uno Del tennis Per quanto riguarda Una tonsillite Andiamo Nello specifico Delle notizie Della provincia Di Pesaro Dopo le tante Pagine legate Alle Olimpiadi La Visca Regge Contro una squadra Di Serie A Vince il Venezia Ma Pesaro Tiene il ritmo Tra i gol Dei Lagunari Nel primo tempo Poi Cannavò Subentra Segna su rigore Sfiora la doppietta Su punizione Finisce 4 a 1 E poi Inizia anche La preparazione Del Fossombrone Per il prossimo Campionato di Serie D Caccia Agli under Competitivi Fossombrone Vigile Sul mercato Dopo anche Il prestigioso Acquisto Di Nigel Chiere Mateng E ancora Il Fano Il Granata Di Guida Tra color Che sono sospesi Il comitato Marchigiano Della FGC Che si è riunito Ieri e rimanda La missione Del club In eccellenza E chiede un parere Legale Alla Lega La Pallavolo Con la Serie A1 Femminile Che ha emanato Il suo calendario Che abbiamo citato Poc'anzi Si parte In trasferta Per la Megabox A Firenze Il 6 di ottobre Coach Pistola È già carico Dobbiamo Iniziare Subito Forte E poi La VL Anche in questo caso Intervista A Imbro Qui un progetto Importante Il play si presenta Abbiamo obiettivi Ambiziosi E Pesaro È una città Dove da sempre Si respira Aria di Palla Canestro E questa Dunque L'ultima notizia Della nostra Rassegna Stampa In questo Venerdì 26 luglio Venerdì 26 luglio Che continua Con gli appuntamenti Su Rossini TV Sul nostro Canale 80 A cominciare Dal consueto appuntamento Subito dopo La rassegna Subito dopo Buongiorno Rossini Quello è con il magazine La natura Della cultura Appuntamento fisso Il venerdì Così come lunedì E il mercoledì E il mercoledì In queste tre Fasce orare Delle 8 Delle 13 E delle 20 E poi Le tre puntate Che sono Riapprezzabili In un unico contesto Domani alle 12 Alle 19 E domenica Alle 15 E alle 21 Il venerdì Pomeriggio Come di consueto Anche il momento Dedicato alla lettura Il commento Al Vangelo Della domenica A cura di Don Marco Di Giorgio L'appuntamento È alle 17 30 Con repliche Al sabato Domani Alle 10 30 Alle 16 E domenica Alle 8 E alle 11 Di mattina Venerdì sera È la serata Di estate Capitale È questo nostro Forma di approfondimento A ciò Che avviene In questa estate Di Pesaro Capitale Della cultura Sesta puntata Dalla titolo I mare Con Pixaurum Vedremo Di cosa si tratta Questa sera Alle 21 E 20 Sempre Questa sera Nuovo Approfondimento Sulla fondazione Oasi Sul San Bartolo Tutto pronto Per il gran finale Del 10 Di agosto Appuntamento Questa sera Alle 21 E 40 E poi Vi aspetto Questa sera Per un nuovo Spazio informativo Quello di Rossini News L'appuntamento È quello Consueto Delle 19 E 30 Con anche Possibilità Di diretta A Facebook Le repliche 20 e 30 23 e 30 Mezzanotte e mezza E domani Alle 6 e 30 Di mattina La replica È così come Alle 13 E 30 Si chiude Invece qui Lo spazio Informativo Del mattino Di buongiorno Rossini Vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di giornata E un buon weekend In compagnia Dei nostri programmi Di員 Informativo Dei nostri programmi Vi ringrazio Di Vi ringrazio Di 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno al latte dal caffè, buongiorno a chi non c'è, e al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vede io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.